Quattrotracce.fm presenta Lucio Meditazioni guidate con Maila Kolaotti Benvenuto, sono Maila. In questa meditazione la mia voce ti guiderà in una pratica utile per stimolare e nutrire il tuo sistema immunitario attraverso la consapevolezza del corpo. Assumi una postura composta. Ora assicurati che la schiena sia dritta ma al contempo rilassata e chiudi dolcemente gli occhi. Entra nel tuo mondo interiore. Scivola delicatamente in lui attraverso respirazioni lente e profonde. Grazie a tutti. Questa è una semplice pratica ma è molto potente se utilizzata come abitudine quotidiana. Puoi praticarla alla sera prima di addormentarti oppure alla mattina prima di iniziare le tue attività. Porta ora l'attenzione al tuo corpo. Percepisci l'energia che scorre lungo tutto il tuo corpo. Un'onda in movimento ti attraversa. E grazie alla tua consapevolezza la ascolti mentre lentamente parte dai tuoi piedi e sale fino alla testa. Percepisci l'energia che scorre lungo tutto il tuo corpo. Sofferma la tua attenzione ai piedi. Tutta la tua consapevolezza è centrata nei tuoi piedi. Sofferma la tua attenzione ai piedi. piedi. Porta la tua attenzione alle braccia. Tutta la tua consapevolezza risiede nelle tue braccia. Ringraziale. Sposta la tua attenzione alle mani. Tutta la tua consapevolezza risiede nelle tue mani. Percepisci ogni singolo dito, ogni falange. Ringrazia le tue mani. Sposta la tua attenzione alle gambe. Tutta la tua consapevolezza risiede nelle tue gambe. Sposta la tua attenzione alle gambe. Ringraziale. Percepisci il bacino. Tutta la tua consapevolezza risiede nelle tue mani. risiede nel tuo bacino. la tua attenzione alle gambe. Não é o marco. Sous-titrage ST' 501. Emanuele. Marco, Ora si sposta nell'addome, tutta la tua consapevolezza risiede nel tuo addome. Percepisci ora il torace con tutta la tua attenzione e dedizione. Ringrazia queste parti del tuo corpo. Percepisci la schiena. Le spalle. La fronte. La fronte. Ed infine porta la tua attenzione alla testa. Tutta la tua consapevolezza risiede nella tua testa. Ora percepisci la fronte. Ringrazia tutte le parti del corpo che hai appena percepito. Ringrazia la schiena, le spalle, la testa. Rimani in ascolto dell'energia viva che hai attivato dentro tutto il tuo corpo. Scorre fluida e zampillante dentro di te. Come un'onda, questa energia vibrante ti attraversa. Osservala mentre parte dai tuoi piedi e sale lentamente fino alla testa. Sale e scende più volte con i tuoi tempi e il tuo ritmo. Inonda il tuo corpo di pura consapevolezza. Inonda il tuo corpo di pura consapevolezza. Ascolta la sua intensità. Potrai vedere i suoi colori o il suo movimento. Rimani in un profondo ascolto e nell'accoglienza di tutto ciò che percepisce il tuo corpo. Il tuo corpo di pura consapevolezza. Ringrazia il tuo corpo a modo tuo come sei fare tu. Il tuo corpo di pura consapevolezza. Ricordare le forme, i colori e le percezioni che hai assaporato in questo viaggio di consapevolezza dentro il tuo corpo. Un disegno istintivo, fluido, senza meta. Un momento di pura e semplice espressione, senza giudizio, nella totale libertà. Questa è una semplice pratica, come dicevo, ma è molto potente se utilizzata come abitudine quotidiana. Puoi praticarla la sera prima di addormentarti, oppure alla mattina prima di iniziare le tue attività. Ti auguro una buona pratica e tante meravigliose scoperte della tua energia. E se vorrai, potrai condividerle con me scrivendo a mailacolauti.chiocciolaiau.it Sarò una testimone silenziosa della consapevolezza in movimento. Con amore, Maila Con amore, Maila Un'onore Un'onore Grazie a tutti.